Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus Tg. In primo piano, questa sera nel nostro telegiornale, ci sono i rincari autostradali decisi dal governo. Fortunatamente però il tratto di A4 tra Padova e Mestre insieme al passante, sfortunatamente scusate, sono tra le poche tratte autostradali rimaste escuse dal blocco dei rincari dei pedaggi decisi dal ministro Toninelli. Bloccati in tutta Italia i rincari dei pedaggi autostradali. Gli aumenti tariffari che sarebbero dovuti scattare con l'inizio del nuovo anno sono stati congelati fino a giugno sul 90% della rete. Restano invariati i costi in tutti i caselli del tratto di A4 gestito da Autovie Venete, da Venezia a Trieste, nonostante la richiesta di un aumento dell'1,48% presentata dalla società al ministro dei trasporti Danilo Toninelli, che l'ha rispedita al mittente. Tra i pochi percorsi che vedranno aumentare il prezzo del biglietto ai caselli ci sono però quelli gestiti da CAV. L'A4 da Padova Est al passante compreso e il tratto a pagamento dell'A57 fino alla barriera di maestre hanno subito dal 1 gennaio il solito fastidioso adeguamento, in questo caso di circa il 2%. Da maestre a Padova Est si pagheranno quindi 2,80 euro invece di 2,70, da Padova Est a Preganziol 4,10 euro invece di 4. Cifre previste da tempo, spiega il governatore Luca Zaia, per ammortizzare il costo di realizzazione del passante inaugurato nel 2009. Ricordo che ci sono volute risorse per realizzare quell'infrastruttura, la stiamo pagando e tutti gli utili da CAV, a differenza degli utili delle altre autostrade, vengono reinvestiti in Veneto, quindi non è una perdita. Purtroppo funziona così che le operavano pagate e poi ovviamente gli utili, CAV sta iniziando a fare utili, vanno poi reinvestiti nel territorio. Una vera e propria ondata di gelo è quella in arrivo anche sul Veneto e anche nella marca trevigiana. Per far fronte proprio al gelo in arrivo il comune di Treviso ha previsto alcuni posti letto da destinare senza tetto. La marca nella morsa del gelo, sono in arrivo temperature glaciali, aperta l'ex caserma serena e senza tetto. Il comune ha trovato grazie alla disponibilità della prefettura di Treviso la possibilità di 20 posti letto e l'ex caserma per dare un riparo a chi vive per strada. Il sindaco Mario Conte e l'assessore sociale alla famiglia Gloria Tessarolo hanno ritenuto opportuno predisporre misure emergenziali per garantire la protezione delle persone in difficoltà. L'intesa con Nova Facility, l'azienda che gestisce la struttura, assicurerà inoltre un pasto caldo a chi altrimenti si troverebbe ad affrontare temperature sotto lo zero all'aria aperta. I 20 posti letto si aggiungono così ai 26 degli asili notturni di via Pasubio e via Risorgimento, oltre al servizio di accoglienza della Caritas Tarvisina. A Treviso nessuno deve dormire in stazione né in mezzo alla strada, ha detto il sindaco Mario Conte, quindi abbiamo trovato grazie anche alla prefettura questa soluzione tempestiva per l'ondata di freddo particolarmente sferzante. Gli asili notturni saranno attivi già da questa notte per offrire un riparo a chi non ha dimora. Le temperature scenderanno abbondantemente sotto lo zero non solo di notte ma anche di giorno. Il gelo sta rapidamente scendendo dal nord Europa verso il nostro paese. Le temperature minime scenderanno, scenderanno con valori intorno ai 3-4 gradi sotto zero per i prossimi 2-3 giorni. E le massime, nonostante che saranno giorni all'insegna del cielo quasi sereno o sereno, le temperature massime, proprio per effetto di questa discesa di aria fredda, non andranno oltre i 5, massimo 6 gradi. Il periodo tradizionalmente più freddo dell'anno non ha voluto disattendere le aspettative, risultato gelo e strade ghiacciate, l'appello delle forze dell'ordine di prestare massima attenzione con i mezzi lungo le strade. La marca rimarrà nella morsa del gelo per 3-4 giorni. Ci si prepara ad affrontare quindi queste giornate fredde con l'invito anche a chi d'abitudine accende a casa stufe e stufette a stare attenti e controllare prima gli impianti. Nella marca non sono previste comunque precipitazioni nevose. Il tempo, seppur freddo, rimarrà sereno. Siamo alla crona che ci spostiamo a Iesolo, dove un ventotenne albanese è stato ferito nella notte da due colpi di pistola. Buongiorno a tutti da Iesolo, dove questa notte un cittadino albanese di 25 anni è stato ferito da due colpi di pistola, uno all'addome e uno alla gamba destra. Ferite piuttosto gravi, non si conosce al momento l'identità dell'aggressore. L'episodio è avvenuto intorno alle 2.30. I carabinieri di San Donato di Piave hanno ricevuto la chiamata di una donna piuttosto allarmata perché qualcuno suonava con insistenza al campanello dei suoi genitori in via Massagua a Iesolo. Questo qualcuno era proprio questo ragazzo ferito che chiedeva aiuto e sanguinava copiosamente da queste due lacerazioni. I carabinieri hanno allertato anche il 118 che si è precipitato sul posto e il 25enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donato, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni tuttora sono ancora piuttosto gravi. I militari sono in cerca di testimoni per risalire al responsabile di questo crimine. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ancora cronaca questa volta da Castelfranco Veneto, un incendio scompliato all'interno di un deposito di pneumatici scongiurato. Il rischio ambientale sono state distrutte però anche alcune auto d'epoca. Sono il primo che ho aperto questa mattina perché questa mattina dovevamo fare l'inventario perché eravamo anche chiusi per l'inventario. Ritorno al lavoro provvidenziale questa mattina a Salvarosa di Castelfranco per l'intera struttura dell'ex concessionaria Martinello di Via Steizza. L'allarme immediato ha scongiurato ben più pesanti conseguenze del rogo. Purtroppo dopo sono dovuto uscire subito perché c'era del fumo. Un giro di 5 secondi sono uscito perché non respiravo più e ho dovuto uscire. Immediata la colonna di fumo nero che si è innalzata sopra l'aria industriale per poi spostarsi verso il centro di Castelfranco. Subito si è pensato all'incendio del deposito gomme che in realtà ha retto le fiamme. Da noi è tutto chiuso, noi siamo in regola, è tutto chiuso, ci sono dei pannelli. Infatti eravamo preoccupati che i pannelli di incendio hanno tenuto. Fiamme che invece hanno devastato l'autorimessa sottostante, una decina i veicoli, alcuni anche storici, andati completamente distrutti. Sconvolto il proprietario che per tutta la mattinata ha cercato di salvare il salvabile. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti con inforzi anche da Montebelluna e Treviso. Inizialmente si è temuto anche per la qualità dell'aria. Allarme fortunatamente è rientrato nel giro di un'ora. Il fumo non dovrebbe causare inquinamento, crea un po' di disagio in questo momento. E fortunatamente i pneumatici non sono stati intaccati dall'incendio, quindi è andata anche abbastanza bene. Quindi nessuna ordinanza di sicurezza sanitaria. Guardate, pensavamo di mandare fuori un'ordinanza indicando di tenere le finestre chiuse, ma sostanzialmente vista la temperatura si pensa che non vi siano casi che vengono arieggiati in questo momento e non vogliamo creare allarmismi. E invece ancora allarme sicurezza nel Padovano. Ladri scatenati anche l'ultimo giorno dell'anno. Due spaccate in appena 24 ore in un bar di Selvazzano. La zia di soldi e di bottiglie. Mi chiama il mio vicino e fa guarda che hai la porta aperta. Il mamma ha detto non ci credo, vi torno, ha trovato la porta aperta di nuovo. C'è una cosa, c'è una cosa, stamattina. E hanno alzato la porta con un piede di porco e l'hanno spinta. Ha dovuto richiamare il fabbro che le aveva appena rimesso a posto una porta scorrevole scardinata dalla prima spaccata. A meno di 24 ore il bar di Selvazzano dentro di Tosca a Zaghetto è stato nuovamente visitato dai ladri. Un 1-2 micidiale che ha visto i malviventi in azione anche la notte di Capodanno. I ladri hanno rubato un televisore, soldi, documenti e bottiglie di vario genere. Più i danni che le hanno provocato o quello che le hanno rubato? Diciamo che sarà metà e metà. Più i danni che... Un po' di tutto, insomma, psicologicamente poi va a essere... Sono proprio distrutta. L'era già capitato? Ma quando avevo le slot. Adesso sono sette anni che ho tolto le macchinette, quindi guarda potevo lasciare anche le porte aperte. Cioè è successo, non sono mai entrati. E adesso si vedono... Per me sono gente disperata. Nelle ultime settimane San Domenico di Selvazzano Dentro è salito agli onori delle cronache per diversi furti in abitazione. Nelle parole della titolare del bar di Via Montegrappa, l'amarezza e lo shock per il doppio colpo subito si confondono ancora con l'incredulità. Ma si lavora adesso? Male. Male perché c'hai stanzia continua, vivi male, non sei tutelata su niente. E purtroppo anche le forze dell'ordine sono poche, quindi non riescono a far fronte a tutto questo ambaradà di casino. Poi abitiamo di fronte al seminario che è deserto, entrano, escono, fanno quello che vogliono. Restiamo a Padova dove un ladro è entrato al convento del santo e ha rubato i soldi delle offerte dalla stanza di un frate. Sentiamo il commento dei fedeli. È una colma vergognosa andare anche nei centri, nelle chiese andare a rubare. Mille euro spariti dal cassetto della camera da letto. Ormai senza più limiti i ladri hanno rubato anche le offerte del santo, addirittura quelle conservate nella stanza di uno dei frati della basilica. Il furto sarebbe avvenuto in pieno giorno, bottino circa mille euro. Il ladro sarebbe riuscito a entrare nel convento del santo, a intrufolarsi nella stanza di un frate che aveva nascosto una busta con le offerte nell'armadio. Fa un brutto effetto, perché se è dovuto alla povertà, non discorso, ma se è dovuto solo a un atto vandalico, è peggio. Offerte che dovrebbero andare la gente che ha bisogno. Non è un'azione che si possa provare, anzi, però insomma, il ladro non guarda al sacro, al profano. Il ladro è ladro. Non è bello, non è cosa bella fare un furto dentro una chiesa, questo è chiaro. Stupito lei? Certo, sono stupito, mi dispiace tantissimo. Mi fa male il cuore a sentire certe cose che... Non l'ammetto proprio, bisogna punire sta gente immediatamente. Ci stanno le telecamere e puniamo sta gente, perché è un fatto brutto. Chi fa questi errori deve essere puliti, non c'è politica che tiene. Alla polizia, che indaga sull'episodio, i frati avrebbero raccontato di aver visto un giovane straneo nella zona tra il convento e la basilica e di averlo allontanato. Ora saranno analizzate le immagini delle molte telecamere che vigilano sulla basilica, ma non sarà un compito facile per il gran numero di persone che frequentano in questi giorni di festa il Santo. Ci lasciamo solo pochi istanti e torniamo tra pochissimo con tutte le altre notizie della regione.